vediamo qual è l'attuale idea di come si è evoluto l'universo qui mettiamo il Big Bang ovviamente sappiamo che c'è stato non sappiamo perché c'è stato però sappiamo che c'è stato grazie alle evidenze descritte poco fa però sappiamo anche cosa è successo dopo perché gli scienziati hanno studiato in aceto di particelle, in laboratori di fisica, con la matematica come potrebbe essersi evoluto secondo questa teoria abbiamo visto che dopo il Big Bang c'è stata un'epoca molto breve chiamata Era di Planck che è durata solamente 10 alla meno 43 secondi ovvero un tempo veramente breve ed è il tempo che impiega la luce a percorrere una distanza di Planck che è ancora più piccola quindi immaginate che è uno spazio piccolissimo in questo spazio tutte e quattro le forze dell'universo gravità, elettromagnetismo, nucleare forte e nucleare debole sono fuse in un'unica forza che cosa succede appena finisce questa epoca? che la forza di gravità si separa quindi dopo 10 alla meno 43 secondi dal Big Bang la gravità si separa dalle quattro forze unificate e abbiamo l'Era della Grande Unificazione quando la gravità si è separata abbiamo un'espansione cosmica enorme, velocissima in cui l'universo si espande di molti o di grandezza più veloce della luce ed è l'Era dell'inflazione che comincia a 10 alla meno 36 secondi dopo il Big Bang in questa fase l'universo passa da le dimensioni più piccole di un atomo a quelle di circa 10 cm un aumento di dimensioni enorme che crea un fenomeno ovvero l'universo si raffredda e si separa un'altra forza dalle altre che erano ancora unite si separa la forza nucleare quindi si chiama Era della forza elettrodebole perché le uniche due forze che rimangono ancora fuse insieme sono quella elettromagnetica e nucleare debole perché queste forze prima erano unite e poi si separano? perché così come l'acqua con la temperatura cambia stato quando è freddo diventa ghiaccio quando è tiepido diventa liquido quando è molto caldo diventa gas anche l'universo cambia stato quando è molto caldo le quattro forze sono tutte in una quando è un po' meno caldo le quali forze si separano quando è molto freddo come oggi le quattro forze sono tutte e quattro diverse e quindi l'universo è regolato da queste forze che si comportano in modo diverso in base alla temperatura e alla densità dell'universo stesso quindi una volta che dopo l'inflazione abbiamo la separazione della forza nucleare forte abbiamo un'altra era che è l'Era dei Quark perché 10 alla meno 12 secondi dopo il Big Bang quindi non è manco passato un secondo cioè stiamo proprio all'inizio che cosa succede? che si separano anche le altre due forze e una volta che tutte e quattro le forze sono separate si formano i Quark cosa sono i Quark? sono le particelle che in futuro formeranno protoni e neutroni quindi sono le prime particelle i veri e propri mattoni della materia e quindi poi comincia l'Era Andronica ovvero 10 alla meno 6 secondi dopo il Big Bang abbiamo la formazione di protoni e neutroni i Quark si mettono insieme e fanno i protoni e i neutroni poi vediamo bene quali Quark fanno protoni quali Quark fanno i neutroni e così via poi che cosa succede? diminuisce ancora la temperatura e si formano i primi nuclei atomici protoni e neutroni si mettono insieme e otteniamo nuclei atomici dell'idrogeno e nuclei atomici dell'elio questi non sono atomi neutri fa ancora troppo caldo gli elettroni sono ancora liberi di muoversi in questa specie di plasma molto caldo che è l'universo e ancora non vengono intrappolati negli orbitali di questi atomi e quindi gli atomi sono ionizzati diminuisce ancora la temperatura e 10 alla 3 secondi dopo il Big Bang ovvero praticamente 1000 secondi dopo il Big Bang che succede? cominciano a interagire la materia e l'antimateria quindi che succede? che si erano formati durante il Big Bang più o meno in equal misura materia e antimateria però per nostra fortuna la materia era leggermente più abbondante e questa sovrabbondanza ha fatto sì che quando la materia e antimateria si annullà una vicenda annichilandosi perché quando due particelle di materia e antimateria si toccano si annullano a vicenda quel piccolo eccesso di materia è sopravvissuto a questa era permettendo l'esistenza di stelle, galassie e anche noi perché tutta la materia è sopravvissuta è andata a costituire quello che oggi vediamo in un universo quindi noi esistiamo proprio perché c'è stato un eccesso anche se leggerissimo di materia calcolate che il rapporto era di 1 a 1 miliardo ovvero per ogni miliardo di particelle di antimateria ce n'erano un miliardo e uno di materia e quindi quando si annichilavano un miliardo si annichilavano a vicenda e una di materia sopravviveva tutte queste particelle che sopravvivevano oggi costituiscono tutte le galassie le stelle e i pianeti che osserviamo nell'universo andiamo avanti e vediamo che succede si raffredda ancora l'universo e praticamente gli elettroni cominciano a essere catturati da questi nucleo atomici positivi ionizzati e quindi la nube smette di essere un plasma comincia a essere trasparente e la luce comincia a viaggiare nel cosmo la cosa interessante è che questo fenomeno avviene 377 mila anni dopo il Big Bang quindi praticamente le prime 6-7 aeree sono durate da un secondo fino a pochi minuti mentre l'ultima era è durata ben 377 mila anni ovvero l'universo ha dovuto espandersi e raffreddarsi per 377 mila anni prima di avere un ulteriore cambiamento e cominciare ad avere i primi atomi neutri questa fase della ricombinazione è durata circa 3 mila anni e 380 mila anni dopo il Big Bang l'universo ha cominciato ad essere trasparente e la luce ha cominciato a viaggiare nel cosmo però non essendoci ancora stelle l'universo era molto buio perché questa luce c'è questi fotoni anche se c'erano erano comunque pochi e quindi comincia la fase oscura o buia d'universo un'epoca che va da 380 mila a 150 milioni di anni in cui l'universo è trasparente però è buio cioè nonostante ci sia la luce che viaggia da una parte all'altra comunque sia talmente poca che appare buio dopo 150 milioni di anni dal Big Bang si accendono le prime stelle e l'universo comincia ad assomigliare a quello che vediamo oggi ovviamente queste stelle non erano ancora strutturate nelle galassie che vediamo oggi ma erano galassie molto più piccole e però la luce che emettevano cominciava a diffondersi in tutto l'universo in modo massiccio perché era diventato trasparente sì è vero queste stelle hanno riionizzato diverse nubi interstellari quindi si è riavuta una seconda rionizzazione però ormai l'universo era talmente grande e talmente vasto che queste nubi di gas non lo riempiono molto quanto e comunque sia la luce riusciva a passare attraversarlo e avevamo comunque sia un universo con tante stelle quindi questo è ciò che gli scienziati hanno immaginato potesse essere successo dal Big Bang ad oggi questo è solamente un estratto della mia lezione completa sull'inizio dell'universo nella lezione completa parlerò di tutta la storia del cosmo ricostruita dagli scienziati parlerò delle particelle subatomiche che costituiscono la materia che conosciamo dell'universo parlerò delle prime stelle parlerò della distribuzione di materie ordinarie materia oscura ed energia oscura e di come questa è cambiata nel tempo durante l'evoluzione cosmica e parlerò dello spostamento verso il rosso degli oggetti più lontani e che presto riusciremo a vedere in futuro con il nuovo telescopio spaziale che a breve sarà messo in orbita se vi è piaciuto questo estratto potete trovare la lezione completa del mio corso sul mio canale la lezione è la numero 7 del mio corso di astronomia l'inizio dell'universo grazie